Ciao a tutti dal vostro caro Max Rando Oggi siamo su Team Fortress 2 Ok ragazzi, questo è un FPS arena dove ci stanno queste persone bellissime E va bene, è tipo Ravenfield Però, tipo ci sono i rossi contro i blu, però ci sono vari personaggi Ravenfield no Ravenfield sono soltanto blu contro rossi che non hanno faccia Oh, 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 sono andato a fuoco Sono in fuoco, sono in fiamme, sono in fiamme Oh, 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 ci sono a spia Ah ragazzi, mi sono dimenticato di dire che ogni personaggio ha una caratteristica Eh, sono morto Vabbè, comunque ogni personaggio ha una caratteristica Che può essere bene, non bene, in alcune situazioni Ok, tra poco rispondiamo Allora, salve, c'è qualcuno? Oddio, non aspetta, un attimo, calma C'è un esercito Quanta gente c'è, mi ha ucciso la mitraglietta Vabbè, allora Tu amico, saremo amici, però Mi fai paura con quei pugni Ok, salve C'è qualcuno Questo mi servirà dopo Ok, si è rubato lui Come l'hanno detto Allora, qui di sicuro ci sta qualche... Ok, come l'hanno detto Non c'è nessun blu Eh, eh Ma mori, mole Ah, l'ho ucciso Oh, oh Vai Tu che vuoi fare, eh? Eh, ahia, chi è che mi spara? Mi spara quello Ahia, sono morto Beh, come esploratore ho provocato più danni rispetto al tuo record precedente Ragazzi, ovviamente se vedete il record di schifo È la prima volta che ci gioco Cioè, è una delle prime volte Quindi posso classificarmi un nabbo Ok, allora, buongiorno C'è qualcuno? Cosa è successo? Ah, il potenziamento Ora, se incontro un singolo blu con un colpo Lo dovrei shottare Eh, vabbè Ma morite Tu non puoi bruciarmi È illegale bruciare Max Vabbè Ci ho provato Andiamo Serviamo a questo bellissimo Ma che camminata cesto personale Ciao Che in realtà sarebbero io Quindi mi dovrei spaventare Salve Oh! Mr. Fiamme! Ciao Oddio, no, no Mi ha bruciato Perché sono completamente rosso? Allora Stanno bombardando chiunque Tra cui anche me Ma perché gli faccio così poco male? Oh, cacchio C'ho 40 di vita Eh, sono morto Sono morto male Salve C'è anche una spia qui A chi sto il carri, eh? A chi sto il carri? Eh? Ok, nessuno Come non ho detto Salve C'è qualcuno? Io cerco qualcuno da un ora Oh! Però nessuno è molto ospitale Tipo anche tu non sei molto ospitale Subito queste manieri Ok, allora Io per non far mettere paura la gente Me ne sto con una mazza Così faccio finta Che vado a giocare a baseball Oh, lui c'è morto Ciao Ma è bruttissimo Non c'è gli occhi Ok, c'è la Non lo so Mi hanno congelato Ma no Io vengo in pace Da un altro pianeta Che si trova Giusto Dietro Dietro Allora Con calma Adesso visto che nessuno è accogliente Noi faremo vedere La vera ira Perché tutti c'hanno le armi potenziate Tranne me Perché sono morto un secondo Prima che le potenziassero No Siamo nelle tubature Figo No, no Bello sto fatto Allora C'è qualche blu da qualche parte? No C'è soltanto uno stanico Abbanzai Ok Salve Oh 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 Eh che ti credi di fare? Tu sei un mio Amico Come mi ha shottato Con la mazza mi ha shottato C'aveva due di vita Ma In giustizia Cioè io faccio pvp con uno Che non è pvp Cioè sì pvp Faccio pvp con uno I I rossi vincono Grande Uh Bella roba GG Ok Adesso però vorrei entrare In un'altra partita Io ho fatto soltanto Quattro kill Perché sono appena Entrato in questa partita E tipo È attiva Da tantissimo Tutti vogliono fare Sta mappo E vabbè L'ha avuto pure io Giusto per Allora io ovviamente Scelgo il mio caro amico Che è molto flash Tra 60 secondi Si dovrebbe iniziare Però Già ora si può Killare la gente In teoria Non c'è nessun blu Come l'ho detto Come l'ho detto Ma c'è i baffi Quante Ok L'abbiamo appena sceltato Dai tra poco si inizia Quello era soltanto Un momento di prova Oddio C'è Grey Ninja Nella nostra partita Giochiamo con Grey Ninja Un pokemon molto forte Allora Se ci sono blu In avvicinamento Chiamatemi Chiamate al Blu 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 5 7 Ma chi è Oh God L'ho sciottato in aria Almeno che Almeno che qualcuno Non mi abbia Non mi abbia rubato La kill Molto probabile Questa cosa Salve Sono appena entrato Nella base del blu C'è qualche problema No Non credo Non ho tornato Eh Tu che fai Corri all'indietro Eh Eh Corri all'indietro Il babbone Oh ma non si fa colpire Ma come Quanta vita c'aveva No Quanta vita c'aveva 94 Cosa Si hacker Dello schifo Mi ha sciottato Col pistolino Non fraintendete C'ho Errori Fatali Scrivetemi Scrivetemeli Nei commenti Così magari Mi potenzio E divento Un pro player Ma sponiamo sempre Insieme a Green Ninja Siamo destinati A vivere insieme Ok Ma ci stava aspettando Davanti alla porta Screenshot Questa immagine È epica Oh Grinja È davvero un ninja Un ninja dell'invisibilità Che appena E appena ha scoppiato la testa Che schifo Con il cecchino Posso mirare? Sì posso mirare No Vabbè Allora Adesso col cecchino Nessuno mi batte Almeno La mitraglietta La mitraglietta La mitraglietta No È illegale Spariamo a Green Ninja Oh Ma c'è un terremoto? No aspetta Io ho visto il blu Che stava da qualche parte E qui Il ninja Appena è stato L'ho ucciso? L'ho ucciso? L'ho ucciso Codo Bravo amico Non si può entrare Giustamente Oh Oh Eh se ne è rientrato Abbiamo vinto? Eh E tu che fai Salatelli? Aspetta che ti sciolto Se ti riesco a prendere Ma come fa a essere Questa veloce? Non lo so Però abbiamo vinto Sono arrivato secondo Con le kill Perché ho fatto Una kill Che triste Allora Valuta La qualità Della partita Che è appena Appena cosa? Perché non è scritto L'ultima parola Allora perché Allora Leggiamo queste cose Ottima Buona Neutrale Medi Mediocre Orribile Naturale Ottima Ciao Buona Perché sono gentile Vabbè ragazzi Il video può anche finire qui Se vi è piaciuto Mettete tantissimo Qualcini su Iscrivetevi al canale Commentate se volete E noi ci vediamo Alla prossima Ciao ragazzi Grazie a tutti